Benvenuti, oggi vi volevo parlare di un problema che molte volte le persone mi chiedono come faccio a vedere se un messaggio audio su whatsapp viene visualizzato e realmente sentito praticamente esistono diversi modi per potersene accorgere allora in primis iniziamo a prendere il nostro smartphone e ci reghiamo appunto su whatsapp regandoci su whatsapp praticamente vedremo appunto che un messaggio c'è sia la spunta blu che praticamente conosciamo e oppure semplicemente una spunta sul verdino appunto che non è blu e questo ci fa capire appunto se il messaggio viene sia visualizzato che o non visualizzato questo qui però non ci fa capire se il messaggio audio che abbiamo mandato è stato realmente ascoltato o no per capirlo come dobbiamo fare allora in prima cosa abbiamo visto che il messaggio blu diciamo con le spunte blu è stato visualizzato quindi praticamente la persona in cui avete mandato il messaggio ha aperto il messaggio però non è necessariamente che l'abbia sentito quindi come fare per non perderci in chiacchiere dobbiamo andare sul messaggio che ci hanno appunto mandato facciamo un esempio sia se si ha iphone che sia se si ha android il procedimento è lo stesso quindi che cosa fare? il primo passaggio, uno dei primi sistemi che forse è anche quello là un pochettino più elaborioso è quello là di tenere premuto sopra al messaggio con un tap fare info poi una volta fatto info vedremo che praticamente esce scritta la scritta riprodotto, visto e consegnato questi tre fattori che sono i principali praticamente ci va a dire che il messaggio è stato consegnato quindi praticamente il messaggio è stato recapitato sul telefono di questa persona che abbiamo mandato quindi non necessariamente e può essere visto però sappiamo che il messaggio è arrivato e sulla destra, sul margine destro vediamo appunto che c'è la data e poi l'orario in cui è stato consegnato poi vediamo la spunta visto che appunto come già abbiamo detto è la spunta blu quindi come già sappiamo la spunta visto significa che il messaggio è stato visto cioè è stato aperto il messaggio è stato comunque vista il fatto che ci è arrivato un messaggio vocale però di certo non è stato riprodotto non poteva essere non riprodotto poi qui troviamo il messaggio riprodotto questo messaggio che cosa va a significare? va a significare che il messaggio è stato appunto ascoltato dalla persona quindi praticamente la persona interessata ha premuto il play sul messaggio e ha ascoltato sempre sul lato destro troviamo appunto la data in cui è stato sentito e poi ovviamente anche l'orario questo è il primo sistema il secondo sistema che è ancora più semplice questo per iPhone praticamente non ci basta altro che andare sul nostro messaggio che abbiamo mandato e tenere premuto e spostarlo sulla sinistra in questo preciso istante praticamente il messaggio vi uscirà appunto di nuovo la stessa schermata di prima praticamente che vi dirà appunto le stesse credenziali però è un metodo molto più rapido per poter visualizzare appunto queste informazioni molte volte capita però noi mandiamo il messaggio vocale sul nostro cellulare però che sicuramente è quello più pratico e ci permette di mandare messaggi vocali però può capitare che abbiamo aperto WhatsApp Web quindi diciamo stando a PC ci può risultare più pratico in quel momento capire se quella persona ce l'abbia ascoltato o meno stando direttamente a PC quindi vediamo insieme come poterlo fare direttamente da computer molti invece non sanno che da PC si può semplicemente fare in così allora avendo questa schermata di WhatsApp Web aperto noi ci reghiamo sul nostro messaggio vocale che abbiamo mandato e premiamo su questa freccina che ci esce di fianco andandoci con il mouse sopra vedete? andando col mouse sopra esce questa freccina poi qui ci escono varie voci di cui la prima è appunto info messaggio premendoci sopra ci usciranno le stesse identiche cose che troviamo sul nostro telefono semplice ed uguale grazie per avermi ascoltato e seguitemi per i prossimi video che vi spiegherò anche come farlo su Telegram su Instagram e su Messenger grazie per aver visualizzato questo video se ti può far piacere per sostenere il canale iscriviti al canale lascia un mi piace e metti la campanellina per seguire i prossimi video e tenerti sempre aggiornato ciao e alla prossima